fuori con le bolle, con le cattive con qualsiasi mezzo io ci sarò nient'altro che noi, due voti in questa telefonata, grazie e un bacio ciao Max, ciao un abbraccio allora io voglio salutare velocissimamente tutti i fan di Max Pezzali network.com un saluto al nostro eroe, al nostro mito a chi ci ha fatto piangere e sorridere che ci fa vivere, ci aiuta con le sue canzoni siamo tutti con te Max continua così, noi li salutiamo li saluto anch'io, loro sono gli eredi di 883 network, quindi bello perché anche loro si sono mossi in una direzione guardando al futuro e questo è molto divertente insomma, avremmo di che divertirsi e l'hanno fatto con nessun rimpianto Max Pezzali ma che collegamento ma non ci credo signore e signori Matteo Bassi non ci pensi più ma scorderai ti scorderai di lei solo che non va proprio così ho le spese a guardare gli ultimi attimi attimi in cui tu eri qui con me dove ho sbagliato e perché ma poi mi sono risposto che non ho nessun rimpianto nessun rimorso soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po' grazie grazie Matteo un bel applauso per Matteo Bassi che ci ha raggiunto e naturalmente allora Matteo Bassi vai vai Max scusate faccio una piccola intro